Gessi è un'azienda in espansione alla ricerca di brillanti neolaureati. Gessi è una realtà internazionale che si occupa di ambientazioni, soprattutto per il mondo del bagno, per cui realizziamo internamente in Italia, nel nostro stabilimento di Serra Valle Sesia, rubinetteria, accessori a redo bagno e tutto quanto necessario per allestire una sala da bagno. Abbiamo una presenza nazionale ma anche internazionale grazie a una serie di filiali che abbiamo costituito negli anni in varie parti del mondo. Al momento noi siamo sempre alla ricerca di profili a 360 gradi, per cui dai profili commerciali, ma in generale siamo rivolti a figure giovani che hanno il piacere di contribuire alla crescita della nostra azienda. Siamo nati da un sogno, siamo nati da un'idea, ma in 20 anni siamo riusciti comunque a diventare e ad essere presenti sul mercato in una posizione veramente dominante. Abbiamo il piacere di incontrare tutti i giovani che, come noi, hanno voglia di fare un percorso di crescita, ma soprattutto hanno voglia, come Jesse, di fare la differenza. I profili ricercati spaziano da quelli commerciali a quelli ingegneristici. Progetti ce ne sono sicuramente tantissimi per le aziende che vogliono crescere, per le aziende che hanno ancora voglia di andare all'estero, di fare nuovi esperimenti e nuove idee. I profili a 360 gradi che noi cerchiamo possono essere a livello commerciale, a livello di comunicazione, perché no a livello anche di marketing. Abbiamo bisogno di idee nuove, di linfe nuove, ma soprattutto di idee che poi possono portare valore all'interno della nostra azienda. Non trascuriamo ovviamente anche la parte tecnica, per cui tutti i profili di ingegneri, piuttosto che figure analoghe, perché comunque alla fine facciamo un prodotto che ha bisogno anche di quello, quindi di essere testato sul mercato. Facciamo tanta ricerca anche su materiali, per cui ben vengano di sicuro anche gli ingegneri. La grinta e la capacità di mettersi in gioco sono i requisiti fondamentali al fine di entrare in azienda. Ci sono quelle che noi definiamo le competenze trasversali, che sono adatte a 360 gradi a ricoprire qualsiasi tipo di ruolo, che sono sicuramente la versatilità, la voglia di fare, l'ambizione e sicuramente la voglia di continuare a mettersi sempre in discussione. E poi l'entusiasmo, noi siamo amanti delle persone solari, delle persone su di tono e di quelle che davvero possono contribuire alla crescita della nostra azienda. Grazie a tutti! Grazie a tutti!